L'Avastin in questo momento viene prodotto in un flacone relativamente grande, mentre l'Ucentis viene prodotto in un flacone monodose. Per arrivare ad una dose molto più piccola, per poter iniettare nell'occhio di una persona, è necessario che l'ospedale, diciamo così, spacchetti, trasformi questo grande flacone in una serie di flaconi più piccoli. Ciò deve avvenire con determinate caratteristiche. Esattamente. Come diciamo prima, l'Ucentis viene commercializzato in un flacone monodose utilizzato per quell'inizione intraoculare. L'Avastin invece no. L'Avastin ha un utilizzo, come abbiamo detto, in oncologia in cui il dosaggio è molto diverso, molto più alto, perché viene somministrato a livello corporeo e quindi deve arrivare da tutte le parti del corpo. Ed è abbastanza ingiutivo che tutto il nostro corpo ha delle dimensioni molto diverse rispetto all'occhio. Assolutamente. Quindi un flacone di Avastin deve servire fondamentalmente, uno più flaconi di Avastin devono servire, banalizzando, ad arrivare ovunque. Perché un paziente con carcinoma del colon o della mammella metastatico può avere lesioni che possono essere al cervello, perché sono lesioni metastatiche, o possono essere in altre parti in cui è necessario arrivare quindi con un dosaggio che deve essere definito per chilo del paziente e che è un dosaggio molto diverso. Immaginate quando si viene a frammentare, quindi a prendere sostanzialmente delle parti da questo flaconcino, che vengono poi rimesse in una siringa in condizioni di sterilità che possono essere molto variabili a seconda dell'ospedale in cui viene fatto. O in clinica privata. O in clinica privata, quindi con condizioni di sterilità talvolta anche molto discutibili, che possono ovviamente mettere innanzitutto a rischio il quantitativo, quindi la dose che viene utilizzata, quindi una dose che può essere differente a seconda di quanto ne viene prelevato nel momento in cui viene preparato in farmacia. Seconda cosa ovviamente con un rischio di contaminazione, come diceva giustamente lei, per la manipolazione, perché ci sono varie evidenze che hanno dimostrato comunque come il rischio di infezione da vari batteri, da vari agenti, possano esporre, ovviamente queste contaminazioni da germi nel passaggio possano portare a un aumento delle infezioni a livello dell'occhio, con delle infezioni che vengono chiamate endoftalmiti, quindi delle infezioni che sono particolarmente importanti, comunque invalidanti anche per persone che ovviamente già hanno magari una problematica seria, come la degenerazione maculare, e qui è bene ovviamente non cercare di esporre il paziente.